ciao a tutti ragazzi e benvenuti oggi siamo qui con un nuovo video finalmente il ritorno del nostro video acquisti dopo più di due mesi beh il motivo è che non abbiamo acquistato più di tanto si quindi avendo poche cose da mostrare abbiamo detto inutile farlo aspettiamo un po così come può essere che il prossimo arriva fra due tre mesi perché stiamo uscendo veramente poco causa ovvi motivi comunque iniziamo subito allora il primo acquisto che vogliamo mostrarvi è un acquisto già visto e stravisto ovvero la nostra collector edition tv edition di little nightmares 2 questa vabbè non la vedete neanche in dettaglio l'abbiamo già fatto l'unboxing sia un video dedicato quindi se volete vedere cosa contiene c'è il video qui andate a vederlo prossimi acquisti che ci siamo sono stati più dei regali che ci siamo fatti come l'occasione scusa di san valentino abbiamo detto nella nostra top di san valentino san valentino è una scusa giusto per buttare soldi però noi ci siamo contenuti molto abbiamo acquistato da aliexpress il sito che in cina si chiama alibaba comunque aliexpress che è un sito cinese dove si comprano diverse cose un po' probabilmente false però costano poco sono delle ottime copie e qui infatti abbiamo questa mia adesso è in dettaglio che qui non vedete nulla questa bellissima figure direttamente da dark souls è un po' di materiale molto leggero quindi si tiene proprio facilmente sì io per esempio tipo la piuma qui si è rotta quasi subito l'hai dovuta attaccare con l'attac però comunque in vetrina comunque fa la sua giusta figura quindi noi comunque non siamo contrari a comprare da aliexpress quando un oggetto è carino costa 20 volte meno dell'originale meglio e invece tu hai ricevuto questa bellissima fuffi la figure di fuffi che si smonta la faccia le gambe e fa diverse espressioni tipo questa qua convinta è troppo forte questa magari se la riusciamo a montare la vedete un po' in dettaglio ancora non è stata aperta faremo un bel set fotografico poi andate a guardare su instagram perché le foto di fuffi non mancheranno sì esatto e se ci ricordiamo trovate anche il link in descrizione se volete acquistarla anche voi che quando costa poco è veramente bella e affascinante e vi arriva sicuro passiamo all'angolo dei acquisti videoludici c'è proprio videogiochi voglio dire questo mese ci siamo dedicati soprattutto alla nintendo switch sì anche perché non c'è la vola della playstation no a little nightmare che la collettora include anche il gioco se non l'abbiamo detto abbiamo dice cioè io ho ricevuto il regalo per natale paper mario da chi da sempre da mamma leon non vediamo l'ora di rincontrare per farle provare la playstation 5 si anche che poi lei pure deve portare diversi acquisti ancora abbiamo fatto incluso spoiler judgment e comunque questo paper mai ancora plastificato dobbiamo ancora provarlo non sappiamo poi se lo giocheremo da qualche parte su twitch o qui vediamo super mario 3d world più bowser fury che stiamo giocando in questi giorni abbiamo praticamente completato al 100 per cento 3d world ci manca bowser fury che dobbiamo ancora provarlo però non sappiamo quando uscirà questo video e come vedrete tutto quanto qui su youtube come sempre e per finire l'acquisto proprio dell'ultimo dell'altro giorno ovvero breve di default e due due che è un gioco ci sta piacendo molto almeno a me sta piacendo molto a te pure a me e lo stiamo comunque giocando adesso stare vedendo la sera ricontinuerà la serie un episodio al giorno probabilmente tipo non lo completiamo e per finire io ogni tanto tra i miei vari giri spesso su amazon per cercare cose in offerta ma a volte anche su ebay a caccia di quelle aste che ci sono varie aste dove tu puoi vincere cose a pochi spiccioli e con solo un euro e 4 ore e cinquanta di spedizione ho vinto direttamente dal giappone chocobo mystery dungeon 2 per playstation 1 che poi siamo andati a cercare e se non sbaglio questa edizione esiste solo giapponese e americana sì e inoltre costa anche un bel po' tipo se la vai a cercare la paghi pure sui 20 30 euro io questo non l'ho mai provato questo io l'ho giocato un po sulla playstation 1 comunque veramente carino anche perché poi c'è la cura di questi qua dei giapponesi proprio cioè delle persone giapponesi c'è un pagato solo un euro è arrivato in un pacco perfetto sigillato ed è proprio ottimo adesso vedete i video in dettaglio siete tutti i cd libretti prodotto perfettamente conservato proprio in maniera maniacale quindi complimenti al proprio al precedente proprietario diciamo in parte anche le spedizioni sicuramente stava guardando questo video sicuramente perché si sa e comunque pensate lui l'ha tenuto per anni conservato ha fatto un viaggio ha rischiato di teneggiarsi più nel nel condominio dove viviamo noi che in tutto il viaggio dal giappone a qui questo è una piccola parentesi siamo quasi alla fine purtroppo come sempre le cose belle finiscono e allora adesso qui chi mi conosce sa che sono un grande appassionato di bowser e quindi tutto quello che di bowser lo voglio però tutto quello di bowser costa un sacco allora però ho trovato su amazon diciamo non è in offerta che il prezzo fisso di base era proprio 15 euro il prezzo diciamo degli amiibo quando escono è 15 euro e appunto abbiamo preso questo a 15 euro invece di 30 50 quanto costa ormai normalmente diciamo quindi era una piccola offerta e quindi questo bowser da smash bros che è davvero stupendo non è il proprio bowser il primo quell'altro però è anche un altro bowser sempre affascinante e per l'occasione di mario 3d world ci stava si ci stava tutti invece di comprare maria descatore abbiamo preso questo che poi una piccola curiosità che inseriamo qua nel video che alcuni di voi ci hanno chiesto perché adescatore no non avevo spiegato durante i gameplay il senso è questo mario si veste da gatto questa cosa non è spiegata non è che diventa un gatto lui si veste da gatto perché proprio lui dentro un costume da gatto al la mia il mio punto di vista e dico che mario è adescatore sta nel fatto che voi dovete immaginare un uomo di 40 anni più o meno di più ore con un po di pancia i baffoni che si veste da gatto e va in giro cioè non è una cosa tanto fa un po adescatore di bambini secondo me tod no e picci diciamo è più gatta sexy esatto comunque questa piccola parentesi adesso andiamo al pezzo più forte finale prima di passare alla fine sempre le nostre maia abbiamo fatto anche un video al riguardo sulle maglie di zabi che sono sempre stupende consigliamo a tutti date che bella questa rigida e trovate sempre il codice sconto in descrizione e nel video poi tutto quanto dedicato quindi vedete comunque allora stavo aprendo senza mostrarlo da game stop hanno messo questo offerte interessante che in realtà la lo spesso ovvero compri due giochi nuovi e al allo stesso prezzo diciamo uno lo paghi a prezzo pieno e l'altro lo paghi a 55 euro soltanto invece di qui se comprare due cose di 20 euro pagate 25 invece di 40 due cose di 40 pagate 45 invece di 80 questo è quindi ne abbiamo comprato la collector di asterix e obelix xxl 3 che non è proprio una collector è più una una limited edition diciamo anzi se ho scritto pure sopra quindi penso sia proprio la verità e questa la volevi particolarmente tu che proprio mi dispiace un po aprirla mi devo dire sì però questo qua pure vedrete la serie probabilmente sta cadendo allora facciamo il cartonato e troviamo questo qui sempre cofanetto vediamo un po se si apre si apre attenzione si apre abbiamo uno scombartimento vuoto come se ci doveva stare qualcosa però non c'è niente ma se l'hanno rubato però no era sigillato e poi abbiamo le figure di asterix e obelix mio dio che cos'è? tiene un coso dietro che resta volete in dettaglio aspetta ma che cos'è? ve lo belisco vabbè mi aspettavo che l'hanno fatta un po meglio sembrano tipo cos'è di aliexpress vabbè ma questi sono dettagli dove che giudichi male e poi ovviamente abbiamo anche il gioco sigillato e si gioca in coppa appunto quindi preparatevi perché asterix e obelix arrivano ovviamente lei e obelix si io voglio farlo se non si era capito e quindi questo è adesso lo riposiamo e incluso nel prezzo di questa offerta è che stavano 82 a 20 euro quindi pagato 5 euro abbiamo preso Daymare 1998 l'edizione vabbè qui porta Black Edition ma in realtà è l'unica edition che esiste fisica perché non ne hanno fatto altre e questo qui se non sbaglio è un gioco creato proprio da ragazzi italiani eh non vorrei dire una scemenza però mi sembra di sì 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 che si ispira molto ai primi Resident Evil noi non l'abbiamo mai provato ospizioso questo rilievo eh non l'abbiamo mai provato abbiamo visto solo qualche video diciamo in parte ci attira in parte abbiamo qualche dubbio e abbiamo sentito tanti pareri negativi ma anche tanti positivi perciò quindi eh proveremo prima di giudicare sì sicuramente se lo proviamo vedrete come minimum gameplay è proprio sigillato bene attenzione perché è un edition che va proprio pari pari con la standard ok ecco sta aprendo sei un po' squalcito ma vabbè allora ecco questo è il cartonato abbiamo il gioco in edizione standard che è incluso dentro poi abbiamo non mi piace questa copertina no la copertina non è anche a me diciamo preferisco questa questo è il cartonato c'è da dire di questa copertina che è molto realistica che i personaggi sono proprio personaggi in gioco però appunto si vedono un po' bruttini quelli abbiamo questi adesivi e questi sono molto carini anche se a veri sì non li usiamo mai ma da parte sono per collezione e poi abbiamo queste tre cartoline saranno dei protagonisti si sono i tre personaggi presenti anche in copertina e dietro abbiamo anche delle mini descrizioni queste tre cartone dei tre protagonisti adesso non so se tipo sono giocabili in modo alterni se invece ci sarà una campagna per ognuno non ne ho idea vabbè lo scopriremo quando lo giocheremo sperando che non debba passare troppo tempo anche se come sapete siamo molto indietro con alcuni giochi quindi è probabile che possa passare anche più di un anno si considerando che abbiamo tipo resident evil 3 persona 5 da ormai più di 5 mesi e ancora non l'abbiamo giocati però piano piano recuperiamo tutto e questi sono i nostri acquisti per quello che è possibile vi mettiamo il link volendo su amazon il nostro link affiliato dove potete acquistare ci aiutate anche e volendo vi possiamo mettere anche i due di aliexpress dei nostri regali di san valentino si si li mettiamo quelli proprio comprati proprio dal venditore da dove abbiamo comprato noi in questo modo se è arrivato a noi avete una buona propria vita che arrivi anche a voi ok grazie mille a tutti per essere stati con noi vi invitiamo come sempre a lasciare un like condividere il video e ovviamente iscrivervi alla prossima